Una parola per definire il nostro piano Opportunità Partecipato Innovazione Le Peter Gray Lab Un beau chemin a parcourir Qui nous fait progresser Innovazione Combattere le marginalità attraverso l'integrazione Convivialità e competenze Collaborazione e conoscenza dei territori per migliorare le qualità sui territori stessi Condivisione per lo sviluppo Una parola che potrei dire è accessibilità Allenamento Condivisione La concreta possibilità di far lavorare insieme territori che altrimenti non si parlerebbero Coordinamento uguale sfida Questo progetto è per la promozione dell'innovazione Potrebbe essere una bella occasione per imparare a lavorare tutti insieme meglio Relazione al team È sicuramente un piano ambizioso Una bella esperienza, un'occasione di scambio e di conoscenza di un altro territorio Le Peter Innovazione Attrattività dei territori rurali Progressione Una sfida condivisa Il Peter è stato un'occasione per fare rete e conoscere altri territori Un'opportunità Una grande opportunità di rilancio per l'attrattività dei nostri territori Soprattutto di quelli transfrontalieri Che devono valere come punto di partenza Perché poi l'importanza Deriverà da quello di riuscire ad andare avanti con le proprie gambe Su tutto ciò che si è costruito Sui quattro assi tematici Grazie a tutti